Allora siamo qua in il secondo video notturno, qua ci stanno parecchi combattimenti da fare Cioè vedo tipo Sasuke e Naruto del avanzati, Hashirama, Obito, Obito quella formagota... Eh, lo spagolato Nello scorso video notturno che sarebbe... Nello scorso video notturno abbiamo combattuto contro degli scarsoni Però abbiamo vinto perché siamo fortissimi O andiamo nel livello intermedio che è un po' più difficile Usiamo questa volta quello che mi è piaciuto Allora, voglio usare Shisui Poi... Shisui Poi voglio usare... Obito Però... Obito questa forma qua Che sarebbe praticamente lo stesso team che ho usato l'ultima volta E... Con Amaru Così Che mi piace Giusto per Combattiamo contro Gara E altri duo che non mi ricordo come si chiamano e non mi interessa Ok Ah, cominciamo Questa merda Aspetta, 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 aspetta Perché ti si pacca adesso Aia Oh, sta merda C'è un po' di coglioni Proprio in una manica di blow Aia Guarda che ti spacco la destra Se mi fumava la schiena Non so perché Oh, non la prendo Come cazzo è possibile? Non la prendo Mi sono toto il cazzo A me non lo prendo Non è possibile Ok Lì, Susanna Non è possibile No, 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 no Posso fare gli svegli Posso fare gli svegli Fare gli svegli Fai gli svegli Ok La tua sorella Aspetta Non ti spacco la destra Vieni qua C'è un ottimo i coglioni questi qua Non la prendo E mi hai dimenticato che c'era questa mosso Aspetta, che tipo Cos'è? Ti ho preso Mi nemmavo finito Minchia E per una volta Morta Merda A posto No cheese Fortissimo Ok Oh Ma ti ho incominciato Why? Dovrebbe essere più facile questo Rido Da quello che mi ricordo Già il fatto che l'ho preso Vuol dire più facile Bel danno No Ok Io spammo Mi interessa L'unica modo per uccidere è questi qua Spammare Aspetta che mi carico Vai al vito Bene Ti ho preso A posto Abbiamo vinto Credo Dovremmo avercelo fatto Forse Abbiamo vinto Abbiamo vinto A posto Ce l'abbiamo fatto Ok A posto Ti ho preso Ti ho preso Bella mia Ti ho preso Aspetta Vado a prendere un attimo Aspetta Vado a prendere un attimo Non riuscite Non taglio neanche Mi interessa Vai aspetta 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 un attimo Aspetta Aspetta Ok Ok I Mosso molto meglio Molto meglio Molto meglio Aspetta 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 Questa ha fatto La capriola All'indietra Il mio punto È stupido È morto Aspetta Ok Proprio Naruto Distrutto Naruto All'indietro Bene Abbiamo solo 30 secondi Per ucciderli Dovrebbero bastare La Jiraiya Non lo prende Però È preso Già con il Dunejutsu Dovrei farcela Dovrei Non lo so Però già se ho passato i 20 secondi Eh minchia Non ce la faccio Eh Devo No Non ce la faccio Ma tua sorella Guarda là Ho vinto Ah ok Praticamente Sì è vero Se c'hai più vita del tuo avversario Vinci Ok vabbè Io avevo proprio vinto Mancavo così poco Ho vinto piccolo E' forte Lo uso di nuovo E' forte ho vinto piccolo E' pure figo Mi piace tantissimo Vai Jiraiya Ok No Preso Preso al volo Benissimo E poi questo è pure più veloce La mossa di Shisui Mette molto più poco Però Non prende con me Quello di Shisui No Usiamo Jiraiya Aspetta Ma che c'è Ma che c'è Preso Ho distrutto Ci ho vinto a prescindere Jiraiya Jiraiya fa un po' schifo Come personaggio da usare Non è forte però Non è complesso Vedi come fa a schifo Il cacchio L'ho preso a farci Aia Preso E poi Io mi ho in mente Di portare Naruto Di nuovo come gioco Tipo come Xenoverse 2 Però C'è Quando per esempio Faccio Su Xenoverse 2 Classificato online Con personaggi casuali Però con Naruto Il problema è che E' difficile trovare Persone su Naruto qua E' un poco difficile Fare quello che faccio Con Xenoverse 2 Però comunque Ci posso provare Non so che posso colpigli Però vabbè Aia Preso Ci metto un bel po' di tempo Per prima aspetta Che Su Naruto Preso Ok Io penso Non è vero Preso Adesso siamo Non è vero Sbagliato colpo Però va bene lo stesso Per prima aspetta sono fortissimo effettivamente diventa Okage però poi scopre che fa schieffa essere Okage però comunque lo diventa Okage bravo diventa con lo stesso penultimo l'ultimo è Neruto quindi c'è ancora un altro combattimento da fare preso è ovvio non è morto grazie possibile vabbè ho vinto eccolo qua Neruto è inata so preso questa merda ok lo brindolo lo presi presi inata ah me ne è venuto ok non lo uccido però è giù ad un molto vicino ok fai ci sui vinto 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 ok a posto abbiamo vinto abbiamo vinto questa battaglia credo sì abbiamo vinto la sfida questa qua come lo scorso video non faccio neanche la intro perché non mi interessa lo voglio fare solo che questo video l'ho fatto così poi ho già tentato per farlo e niente ora registro un altro ciao ciao